punto f attraverso francesca r fratellanza animica 3 a cura di vb guida tutti voi avete dei moti verso una ricerca dell'invisibile perché perché la vostra coscienza vi richiama un passaggio vibratorio a un salto quando un'era si accavalla un'altra cosa succede succedono avvenimenti che permettono alla nuova razza di poter interagire con la vecchia razza che fanno della vecchia razza un punto di riferimento e questo è il momento incarnativo in cui voi siete dei punti di riferimento nello scorrere dell'eterno presente già lo siete ma in questo fotogramma voi siete ancora nel divenire nel dover essere è fondamentale capire come la vostra coscienza è una anche se si separa come il vostro corpo è solo un limite una divisione apparente così la coscienza nuda si separa si suddivide ed è più aspetti di ciò che è la coscienza non ha confini non ha limiti perché la coscienza è molto più simile al tutto e l'esempio di ciò che è il tutto ed essendo l'esempio di ciò che è il tutto altro non è che la possibilità di potersi manifestare contemporaneamente in più situazioni diverse perché contemporaneamente ciascuno di voi apparentemente esperisce vari karma ma in realtà tutti voi vivete dei momenti similari che tutti insieme cercati di esperire per portare nella totalità un maggiore esperire che cosa vuol dire che in ogni singola reincarnazione ognuno esperisce la piccola porzione che gli serve ma contemporaneamente esperisce anche quelle piccole porzioni che insieme fanno una grande porzione ecco perché si parla di balzo vibratorio importante perché si parla di balzo vibratorio importante che in ogni singola reincontrazione che insieme vedremo il gioco per il nostro lavoro in ogni singola reincontrazione che con il nostro lavoro nel nostro lavoro è un'accomanto è piaciuto quando si parla di attrazione che al nostro lavoro è una grande porzione che con il nostro lavoro è un'accomanto è un'accomandante